Succede all'ospedale San Massimo di Penne che un cartello compare nel pronto soccorso, il cartello è a firma del nuovo direttore della UOC di medicina del reparto di medicina del San Massimo di Penne. Un cartello in cui dice che per la scarsità di medici, quattro sono rimasti, compreso il primario, non è più possibile effettuare turni e quindi non è più possibile garantire ricoveri. Si comunica che è ulteriormente peggiorata la drammatica carenza di personale. E' questo l'incipit del testo firmato dal direttore dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale San Massimo, dove da ieri i ricoveri sono temporaneamente sospesi. E' stato sufficiente un concedo parentale a mandare in tilt l'assistenza sanitaria in reparto, che non può più essere garantita 24 ore su 24. Il motivo è che mancano i medici. Un colpo al diritto alla salute di Penne dell'area Vestina, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. L'assessore Veri aveva promesso più personale, promessa che non è stata mantenuta. Le parole di Blasioli. Nulla di nuovo, l'avevamo già detto nel corso della visita rispettiva che io avevo svolto nel 2021, nella successiva interpellanza alla quale l'assessore Veri mi rispondeva che sarebbero arrivati 10 medici per medicina a Penne. Sono soltanto 4 con turni massacranti per loro. Sui turni di lavoro lo stesso Blasioli ha richiesto un accesso agli atti alla ASL lo scorso 6 dicembre, a cui però non è ancora giunta risposta. La situazione rischia di ripercuotersi anche sull'ospedale di Pescara, dove l'assistenza ai degenti, in particolare al pronto soccorso, è già complessa. 12 milioni e mezzo di euro sono stati sottratti al nosocomio di Penne per essere spostati su quelli di Avezzano, Vasto e Lanciano, ricorda infine il consigliere del PD. Mentre del bando di gara per la ristrutturazione del San Massimo non c'è alcuna traccia.